Questo quadro è molto interessante, rappresenta la fuga in Egitto, un tema molto trattato dalla pittura di tutti i secoli, tratto dai Vangeli, quindi con la Sacra Famiglia che fugge in Egitto per fuggire alla persecuzione di Erode e in questo caso siamo in area, siamo come data, in epoca seicentesca, nella seconda metà del Seicento, come tipo di tela, come tipo di struttura e come stile della tela, come stile del quadro anche. Il quadro è opera di un pittore popolare di area nord italiana, non definibile diversamente perché i pittori popolari non hanno una vera e propria scuola, un modo di essere per cui sono distinguibili così facilmente, ma ha un segreto molto interessante perché la composizione è molto bella. Il quadro è dal punto di vista artistico, appunto un po' ingenuo, di fattura, ma la composizione è particolarmente riuscita e mi è venuto il sospetto che non fosse sua, come spesso capita tra i pittori non solo minori ma anche maggiori. Infatti l'artista si è ispirato, anche in maniera abbastanza precisa, a un'incisione di Jean Sadler I tratta da un'opera di Martin de Gauss. Siamo nel 1579, la data dell'incisione, e nell'incisione da cui trae la composizione si vede la stessa figura della Vergine, lo stesso asino piegato, lo stesso gruppo di angeli qua sopra con le nuvolette e ha fatto poi delle varianti perché San Giuseppe, che era al fondo nella composizione, che era in Cina nella composizione, lo mette al fondo. Ecco, quindi fa questo strano gioco che non sia quasi riconoscibile. I colori sono molto piacevoli, l'angelo ha una veste che ha alcuni dettagli molto interessanti perché è di broccato, molto ben dipinta, questo e questo dettaglio, le case nello sfondo non sono molto italiane, infatti sono nordiche, infatti siamo con pittori nordici. Sadler è un incisore che lavora in area veneziana, molto famoso, molto illustre, e le sue opere erano diffuse su tutto il territorio europeo. Martin De Vos è un altro grandissimo artista, pittore e incisore, di area sempre fiamminga nordico, appunto fiamminga, e anche le sue opere furono diffuse in tutta Europa e usate da artisti grandi e piccoli, segno che appunto c'è una diffusione, una cultura che arriva capillarmente ovunque, nelle valli, nelle piccole chiese, nelle cappelle, e questo è uno dei fascini di questo quadro, molto aggraziato. Questo restauro, come sempre accade in dipinti così antichi, ha previsto la rimozione di inadeguati interventi effettuati in passato. Il mio intervento di restauro è stato suddiviso in due fasi successive. Una prima fase di restauro conservativo, che ha previsto il consolidamento del colore, che si presentava sollevato in piccole scaglie su tutta la superficie, è stato poi effettuato l'insaldo dei tagli e degli strappi, con la tecnica dell'incollaggio filo a filo, e con la stessa tecnica sono stati inseriti dei piccoli intarsi dove erano presenti dei fori e dei buchi sul dipinto, quindi con mancanza di tessuto in tela, in tela di lino. Dopo questa prima fase conservativa, invece, si è passati alla fase, diciamo, di recupero più estetico dell'immagine, con la pulitura del dipinto e della pellicola pittorica, ed è stata rimossa una vernice molto scura e molto spessa, che certamente si è alterata e ingiallita nel corso del tempo, ma che secondo me era già stata stesa in maniera così patinata e scura, proprio per andare a mascherare tutta una serie di ritocchi e ridipinture che erano presenti molto spessi e localizzati su tutta la superficie. Attraverso quindi la fase di pulitura, una pulitura selettiva, si è rimossa questa spessa vernice e si è potuto così recuperare le cromie originali, che come vedete sono molto chiare e vivaci. L'intervento è poi proseguito con la stoccatura delle numerose lacune e con un ritocco pittorico che ha permesso di recuperare completamente la leggibilità della cromia. Grazie a tutti!